Questo film è bellissimo, guarda, quando lo vedrai è bellissimo, commovente, siamo tutti parte di un racconto importante, è bello, bello e importante. Per me sta morendo lui. Senti Marcellina, ci vediamo presto, io guarda, verrò presto a Trieste, quindi speriamo di vederci su. Ma lei è di Imola? No, ma io passerò anche da Imola, però sarebbe bello anche se, perché credo che, non so quando mi hanno detto che ci sarà una proiezione a Trieste. Ah, dopo che vai in tv. Ah, dopo la messa in onda, vabbè, insomma, farei prima a vederlo in televisione, hai ragione, mi sono un po' frastornato. Senti, comunque, dai, spero di vederti presto, va bene? Forse la raccogliamo con un'idea. Ciao, ciao Marcellina, ciao, a te, un bacio, ti ripasso. Grazie. Forse è svenuta. Marcellina, sei svenuta? Non la recuperiamo più.